C'è il vantaggio della Roma, ti chiedo scusa, con Pellegrini, Roma 1, Parma 0, trentacinquesimo, di nuovo Reggio Emilia E' entrato Under De Rossi, ha ceduto la fascia da capitano a Florenzi, anche lui, molto commosso, trentottesimo, Roma 1 Il pareggio della Parma, il pareggio della Parma con Gervigno che non esulta, Roma 1, Parma 1, quarantunesimo, Firenze Ha segnato Perotti, il 2 a 1 della Roma, quando siamo arrivati alla quarantaquattresimo, Perotti di testa, Roma 2, Parma 1 Grazie